allora come avrete visto i regali di natale simona ha ricevuto questa e come avete visto dal titolo del video andremo a combarla con la babbi che avete visto cioè lei allora lei penso che tutti sappiano adesso adesso chi si è nel senso l'avrete vista già sul canale nella scorsa puntata chi segue la famiglia fontan lei è regina 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 no regina oscura come simone ma regina 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 perché regina regina perché abbiamo la mente noi prendiamo i nomi dalle serie che ci piacciono così da ricordarsi ma no perché ci piacciono le comunque le serie e e loro sono stati prezzi da rosi abate che hanno una serie a regina ci piace a me guai chi mi tocca rosi abate quando c'è rosi abate nessuno deve romperli e così perché se no bisogna un boscato e quindi niente andiamo a dargli quei nomi noi gli diamo i nomi classici alberta cappero centro alberta cioè barbie ma cambiamo i nomi perché ci piace così infatti nella nostra sera non ce ne sono chi si chiama barbie e niente allora vado a staccare è molto morbida come testa lei quindi si dovete fare presa come sempre tutto attorno alla testa se no se non riuscite come sempre si mandare con la data con l'acqua solo che io mi trovo bene così ormai allora questo perno come detto in tutti i video però magari qualcuno se l'è perso potete lasciarlo però se voi fate le teste intercambiabili noi non le intercambiamo le teste perché le lasciamo perché sono molto i piccoli delle med li vedo molto fragili molto fragili rispetto a e nella lavastoria non c'è più la forbice però si taglia si tagliano via le due lette qui no qua sotto si fa il taglio netto bene però se vuoi possiamo metterla così non lo so perché lei c'è la testa più piccola eh 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 sì vado vediamo è morbida anche la sua un po più dura e niente chi ci segue sa che noi amiamo il combo perché e la forbice la forbice non ce n'è uno qua dietro e nella lavastoria perché abbiamo tagliato il cotecchino lo zampone e si è sporcata quindi o vai prenderla su o tarangi nel cassetto non ce n'è più e niente ho fatto una fontina allora si taglia vediamo se funziona qua sotto alle alette vedete si rompe la forbice ok vedete allora per i corpi per diciamo la carnagione mi sono ho guardato le tabelle sul gruppo facebook I love fashionistas poi vai a fare la colata la colata poi faremo una bella colata di acqua calda e via eccola qua e si magari quando la colla così si 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 oppure se non fate la colata di acqua calda mettete i codini dentro i codini si 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 vabbè comunque perché adesso l'ho giostrata un pochettino perché mi ha fatto fatica a venire via il perno è imbattibile ma imbattibile cioè io di solito adesso vabbè all'inizio magari ci impiegavo di più però adesso ultimamente avete visto in due secondi ho tolto la testa ormai e anche regina ha il suo corpo snodato bene 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 che dovevo farla già da tanto però ho deciso dovevo e me ne ho fatto un'altra su un corpo si ma piano piano con l'anno nuovo le metteremo tutte su combo ero curiosa di vedere se lei avesse la stessa carnagione di lei di vedere sul gruppo vabbè ce l'hai qui poi si sono simili si 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 sono uguali hanno la stessa carnagione la bmr con lei lo yoga e che ha lo yoga ha la carnagione simile a giada quindi voi se volete combare avete trovato una testa di giada e so che giada costa un occhio della testa basta prendere una testa di giada il corpo della yoga che costa ancora nei negozi lo trovate ancora nei negozi a poco prezzo oppure su amazon ogni tanto lo scontano pure ne scontano a 12 13 15 euro insomma occhio ai prezzi quindi è fattibile quindi è fattibile per avere una giada a prezzi esorbita quindi occhio occhio veramente ai prezzi su amazon lo stesso vale per ellison si allora ci trova molto di più di giada prometti non mi riescono a trovare basta solo una testa e un corpo e poi potete combarla anche con un corpo del genere se non trovate lei insomma si vede riflesso lo film abbiamo passato volto e niente ora farà lei la colata di acqua calda poi la cambierò tanto riesci a farla no? non ci vuole mica una nascenza ma volevo farvi vedere come mi hanno combinato me l'hanno già fregata? o la ciabatta? come mi hanno combinato la ciabatta questa è la mia ciabatta quei miei 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 che adesso giornano felici felici sulla coltrona sulla coltrona sulla coltrona bene amici detto questo il video finisce qua vi abbiamo fatto vedere ma che cos'è? ma avvicinati ci si vede che la pazza e niente è molto bella mi piace mi piace resina eh? beh beh sì resina lo faccio io perché perché in teoria dovrebbe parlare il siciliano ma non è pienso tanto il siciliano eh però vabbè uno fa quello che può e niente con questo noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo video e niente hai detto questo ciao guarda 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 ciao a tutti cosa ridi? sta ridendo questa ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti